Ma quale sport per soli uomini? Il rugby, almeno fra i banchi di scuola, inizia a tingersi di rosa. Fra le 21 formazioni che hanno partecipato questa mattina ai campionati provinciali studenteschi, ben 6 erano formate da sole ragazze. Una meta di tutto rispetto, usando il gergo tecnico della disciplina, per uno sport spesso considerato maschile per via della sua erruenza e contatto fisico con i giocatori. Ma invece ricordato, sottolinea uno dei tanti docenti e accompagnatori dei 130 studenti sul campo del Cerrimari di Sondrio, che gli elementi preponderanti di questa attività sono fair play e spirito di gruppo, fattori che uniscono indistintamente ragazzi e ragazze. Disciplina estremamente educativa, perché si basa sull'estremo rispetto all'avversario, di se stesso, dell'arbitro e allo sport scolastico per eccellenza. Abitua la sofferenza, è uno sport di impatto, è uno sport duro e di conseguenza soprattutto con le nuove generazioni e con questa nuova Italia, questa nuova società dove ci stiamo muovendo dobbiamo ricominciare a imparare a toglierci le pulci come bisogna farle. E a quanto pare il rugby da buon cupido ha fatto breccia nei cuori delle studentesse. Nello sport come nella vita, le vittorie hanno un sapore ancora più intenso, se condivise. Qual è l'aspetto positivo del rugby? Secondo me l'aspetto positivo del rugby è il rispetto, emerge molto in queste esperienze, in queste occasioni. È sempre bello vedere persone che si mettono in gioco, soprattutto i ragazzi che non hanno mai provato a giocare o che sono nuovi con la palla da rugby, con questo mondo. È sempre bello vederli mettersi in gioco e provare. È da sfatare il mito che è il rugby, quindi è solo uno sport per maschi. Sì, perché sono la prima che gioca. Ti dà l'adrenalina in più, poi ti aiuta con la squadra e è una grande famiglia, una famiglia in più diciamo.